Carissimi telespettatori, sento il dovere di dover intervenire per quanto riguarda il malfunzionamento della nostra telecamaiore e vorrei ribadire che purtroppo non dipende da noi né da motivi diremmo politici, ma per motivi tecnici. Anche oggi pomeriggio siamo riusciti finalmente a metterci in contatto con i tecnici a livello regionale e ci hanno spiegato che la nostra è una televisione piccolina e ci sono altre televisioni anche a livello nazionale e regionale che hanno problemi simili ai nostri e quindi prima fanno i grossi e poi arriveranno anche a noi. Ci scusiamo veramente per questo disservizio, soprattutto per quanto riguarda anche gli spot commerciali e non, che purtroppo si vedono male, quasi più una radio camaiore, più che telecamaiore, ci hanno promesso che fanno il possibile di fare quanto prima. A questo riguardo nei prossimi giorni con una rappresentanza di telecamaiore ci porteremo anche a un incontro a Roma specifico proprio per caldergiare il ben funzionamento di telecamaiore e l'allargamento dello spazio anche in Versilia. Quindi vi chiediamo di portare pazienza e di scusarci per questo, però vedo che vorrei ringraziare tutti gli operatori che nonostante questi disagi continuano fedelmente ogni giorno a produrre e essere presenti a telecamaiore. Quindi anche per rispetto di loro vorrei che quelle male lingue che dicono che si fa apposta capiscono che non è così. Quindi ci auguriamo quanto prima di poter tornare ancora meglio a proporre servizi e proposte per tutta la Versilia oltre che per la Vallatica Maiore. Grazie.